Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Armati di macetti minacciano un uomo, poi si chiudono in casa due indiani fermati dai carabinieri a Danone Veneto. Il blitz degli investigatori dell'arma è scattato ieri nel terzo pomeriggio in centro al paese, dopo che i tre erano finiti alle mani. A finire nel mirino della coppia di cittadini extracomunitari, un uomo della zona già conosciuto dalle forze di polizia. Non è chiaro che cosa abbia scaturito la follia dei due indiani che si sono scagliati contro l'uomo. Non erano ancora le 18 quando i tre hanno iniziato a inveire l'uno contro gli altri e viceversa. Dalle parole ai fatti, come spesso accade, è stato un attimo. I tre sono passati alle mani con calci e pugni finché è spuntato anche un macete. Una scena a cui hanno assistito diversi paesani che, impauriti, hanno chiesto aiuto al 112. Immediato l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Porto Gruaro agli ordini del capitano Raffaele Di Lauro, arrivati in forze. Sul posto, in Viale Venezia, sono arrivati i carabinieri della locale stazione con il maresciallo Gianluca Fasulo, i colleghi del nucleo operativo e il comandante, il luogotoriente Gianmarco Gemignani, con il nucleo poi radiomobile. Alla vista dei militari, la coppia di indiani, entrambi sui 30 anni, è scappata rifugiandosi nella loro abitazione al civico 10 di Viale Venezia. La vittima è stata soccorsa dagli stessi investigatori che hanno cercato di fare chiarezza tra il marasma che si era creato. Fortunatamente l'uomo non è rimasto ferito, a parte qualche contusione. Intanto i due stranieri si sono chiusi tra le mura di casa, di fatto non rispondendo, nemmeno ai carabinieri che cercavano di farsi aprire. Ogni tentativo di dialogo non ha avuto infatti interlocutore e a quel punto i carabinieri hanno allertato il reparto speciale per fare un'irruzione. Ma alla vista dei militari, con il volto travissato dal passamontagna, quando ormai erano le 20 e 30 passate, i due indiani hanno desistito, aprendo la porta e consegnandosi agli uomini in divisa. Gli investigatori hanno fermato la coppia, sequestrando anche il macette incriminato. Entrambi sono stati poi trasferiti in caserma per essere ascoltati e ora le indagini puntano a fare piena chiarezza su una serata di pura follia. La prevenzione principale rimane sempre quella del comportamento responsabile del singolo individuo. Per quanto riguarda invece l'apertura delle scuole, un ragazzo che può avere la febbre, questo comporterebbe l'isolamento fino al tampone di tutta la classe e quindi diventa difficoltosa la gestione dell'anno scolastico? Intanto sarebbe importante che il bambino, la ragazza o il ragazzo uscisse di casa dopo aver misurato la temperatura di casa, in modo da evitare che una persona con febbre entri in contatto con altri studenti, con altre persone. E qui già c'è una prima responsabilizzazione dei genitori. So che è un fastidio, perché vuol dire prendersi un minuto per fare una cosa in più ciascuna mattina, però è anche la misura più importante e questo anche a tutela degli stessi bambini. E questa è una prima forma di monitoraggio. Poi è chiaro che ci dovrà essere un collegamento diretto, preciso e rapido tra la struttura scolastica e la famiglia come però insomma il solito avviene per cui su questo starei tranquillo. Il problema ci può essere, ricordo, perché nel periodo autunnale non è che ci sia solo il Covid, per cui ci possono essere altre malattie, ci sono altre malattie anche con sindromi influenzali, sintomi respiratori, eccetera, che possono mandare in allarme una classe, una scuola, senza necessariamente coinvolgere il Covid. Quindi bisogna tenere i nervi saldi e avere un rapporto diretto con l'autorità sanitaria per distinguere caso per caso. È fiducioso che l'anno possa partire e arrivare a conclusione? Io direi di sì, perché molte misure sono state prese correttamente e se manteniamo anche il rispetto dei comportamenti individuali che sono indicati, secondo me ce la facciamo. Sindaco, un ultimo messaggio che vuole rivolgere ai suoi cittadini? Il messaggio che rivolgo è che i ragazzi che vanno a scuola sono i ragazzi di tutti, anche se magari non sono precisamente mio figlio o mia figlia, è la nostra gioventù e come tale va particolarmente tutelata se vogliamo dare un futuro al nostro Paese. E quindi in questa attività, in questo sforzo che stanno facendo soprattutto gli insegnanti, i dirigenti, il personale ausiliario delle scuole e anche le amministrazioni, sarebbe bene che tutta la città facesse squadra, si riunisse per sostenere questo sforzo, questo impegno, rispettando appunto quelle che sono le regole che ci vengono insegnate ormai da me. Con il ravvio della scuola, dopo la chiusura forzata di tutti gli studi scolastici nazionali del mondo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha costretto bambini e ragazzi a seguire le lezioni online e a studiare tra le mura di casa, affiancati da genitori o berati da lavoro e dalle incombenze domestiche, c'è un inizio pieno di dubbi, di preoccupazioni, sia per gli genitori che per gli insegnanti, una paura che si accenda in focolaio è davvero grande. Ed ecco che la tecnologia arriva a tranquillizzare gli animi e a garantire un rientro in tutta sicurezza. Sono decine le scuole in tutta Italia ad aver adottato infatti un dispositivo, tra le altre la Daniele Manin di Susegana, nel Trevigiano, dove gli studenti hanno trovato ad attenderli Spray for Life, una colonnina digitale antifocolai in grado di rilevare la temperatura corporea, disinfettare le mani e anche i piedi in modalità no touch e solo in questo modo possono entrare nell'istituto. Se questo totem rileva però un'anomalia, ovvero la temperatura elevata, lo segnala con un suono e lo studente non può accedere in aula. Tra le funzioni disponibili c'è anche quella per cui, in tempo reale, il responsabile della sicurezza avrà nel suo smartphone la situazione delle misurazioni, degli accessi e di tutto quello che succede. È una tecnologia avanzata che permette di prevenire all'istante i possibili focolai. Un dispositivo anti-covid di un'azienda veneziana, Sunrise, in collaborazione con l'azienda Stiplex di San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano, nota per aver installato le sue colonine durante la delicata fase di lockdown in diverse strutture commerciali e ambientali, sia in Italia che all'estero. Sunrise è una start-up innovativa fondata da un gruppo di imprenditori specializzati in tecnologia e innovazioni sanitarie. Il fondere Simone Tomasello, noto imprenditore nel settore oreca dell'event management, la sede dell'azienda che ha brevetato Spray for Life, Box for Life e il Robottino, e invece a Caorle, appunto, l'acquisto, anche come anche noleggio di dispositivo, è integralmente personalizzabile nella sua grafica esterna, è soggetto alle detrazioni fiscali previste dal governo e comprendono anche un credito di imposta come sancito dallo stesso decreto. Alberto Teso, avvocato delegato di Ascom per il territorio di San Donaia e Jesolo. Avvocato, sono in arrivo delle novità che riguardano i bandi per il settore non agricolo che ha a che fare con il commercio. Quali sono queste novità, avvocato? Beh, un paio di giorni fa l'approvazione da parte di Avepa, che è l'agenzia regionale che si occupa appunto dei bandi di finanziamento, dell'approvazione di ben nove progetti presentati da attività commerciali, non agricole, gestite da Vegal, che è il gruppo di azione locale del Veneto orientale, costituito dai comuni del mandamento di San Donaia e Portoguaro delle associazioni di categoria e veicolate tramite Vegal alla regione Veneto che poi ha erogato questi contributi una volta valutati i progetti presentati. Sono 200 mila euro a fondo perduto che vanno a nove imprese, da Portoguarese, San Donatese e Jesolo, e finanziano dal 35 al 40% di un determinato progetto. Questo vuol dire che si muoveranno entro i prossimi mesi investimenti per circa 500 mila euro. Il 40% o il 35% lo mette la regione, la quota rimanente la mette il privato, però è un buon finanziamento soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Partecipare a un bando non è facile, perché non è un bancomat o un jukebox dove basta inserire la monetina e avere un determinato risultato. C'è un'istruttoria complessa, non tutte le domande vengono accolte. Noi siamo molto soddisfatti come Confcommercio perché sulle nove domande accolte dalla regione, otto sono state istruite e preparate dai nostri uffici di San Donà e Portoguaro. Questo significa che se l'imprenditore ha una buona idea e si rivolge all'associazione di categoria che riesce a istruire bene la pratica, ha buone probabilità di vedere accolta la sua domanda. Questi sono fondi che devono essere utilizzati, altrimenti tornerebbero all'Unione Europea. Sì, questi sono fondi europei, non stiamo ancora utilizzando quelli del Recovery Fund, sono fondi europei che devono essere utilizzati, pertanto è importante anche che a questi bandi vengano presentate le domande, perché dobbiamo spenderli questi soldi, perché le somme non spese ritornano indietro. Soprattutto progetti spendibili, quindi attuabili. Sì, il messaggio che vogliamo dare è questo, c'è la possibilità di avere del danaro fresco, a fondo perduto, ci sarà ancora più probabilità nei mesi a venire, proprio quando arriveranno questi fondi nuovi dall'Unione Europea, però bisogna avere dei progetti preparati. Quindi l'imprenditore deve sapere che se ha un'idea, la deve concretizzare in progetti, deve raccogliere preventivi, deve rivolgersi a un professionista o all'associazione di categoria come la nostra, che gli prepara la pratica. In modo che quando esce il bando, la domanda può essere presentata rapidamente, perché i tempi sono spesso molto ristretti. Quindi è difficile che all'uscita del bando, uno se non è già pronto, che ha preventivi, disegni, studi, previsioni già pronte, è difficile che riesca a soddisfare i tempi e la documentazione necessaria per la partecipazione al bando. Queste 8-9 aziende che hanno partecipato hanno richiesto fondi per ristrutturazioni e rinnovamento di attrezzature. Sì, ristrutturazioni, rinnovo locali, sia per ristrutturazioni edilizie che per il rinnovo dell'attrezzatura, in questo caso specifico, il bando si chiama 6.4.2, è un bando legato al territorio, quindi bisognava presentare una domanda in qualche maniera collegata al nostro territorio del Veneto orientale, quindi collegata a piste ciclabili, a prodotti del territorio, eccetera. Ma ce ne saranno molti altri bandi che arriveranno, bisognerà essere pronti e preparati. Quindi prepariamo progetti esecutivi, andiamo da architetti, prepariamoci con tutta la documentazione, raccogliamo preventivi, perché nei prossimi mesi bisognerà essere pronti. Se questi soldi non li spendiamo, non li spenderà qualcuno di un altro. Fuggi, fuggi, generale, dall'ufficio tecnico comunale di San Michele al tagliamento e l'opposizione incalza il sindaco. E come nel film con Steve McQueen, la grande fuga, il personale del comune di San Michele, appena intravede una nuova opportunità lavorativa dei comuni vicini, scappa, tornano i consiglieri di minoranza, Morando, Teso, Tollon e Vizzonne. La riprova si è avuta con i bandi di concorso pubblicati recentemente nel comune di La Tisana, a cui hanno aderito praticamente tutti i dipendenti del settore lavori pubblici dell'ente. La gestione del personale da parte dell'amministrazione Codognotto è a dir poco tragicomica. Siamo di fronte a un fuggi-fuggi generale. Chi trova l'occasione giusta se ne va. Questo determina il rallentamento, se non addirittura il blocco delle varie pratiche che il comune deve visionare, siano essi di natura amministrativa o tecnica. L'opposizione poi se la prende anche con il vice sindaco e assessore alla urbanistica Gianni Carrerre. Le sue dichiarazioni sono quasi commoventi, da oltre nove anni ricopre questo ruolo e solo ora, guarda caso, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, afferma testualmente che c'è tempo di dare risposte concrete anche sui tempi delle istruttorie, perché i ritardi hanno raggiunto tempi inaccettabili. Ci saranno delle nuove assunzioni presso l'ufficio tecnico, certo, dicono ancora appunto dall'opposizione, ma il problema sta nella catena di comando degli amministratori incapaci di gestire la cosa pubblica e dei dirigenti che non sanno fare i dirigenti. Stiamo ancora aspettando il piano particolareggiato della Lenile e il piano degli interventi. Il territorio ha bisogno di risposte. Serve una programmazione certa, necessaria per professionisti e imprenditori, per attrarre nuovi capitali e investitori, soprattutto in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria si è trasformata in un'emergenza economica. Delle dirette Facebook di Codognotto, questo comune non se ne fa nulla, faccia pure l'influencer, ma non a discapito dei cittadini, hanno concluso consiglieri di minoranza. Siamo alla fine della terza edizione di Terre Evolute Festival della Bonifica. Siamo tutti molto stanchi, ma siamo davvero molto contenti e molti entusiasti. E questo entusiasmo spero ci accompagnerà, sicuramente ci accompagnerà per le prossime edizioni fino al 2022, quando celebreremo il centenario appunto del grande convegno che si è tenuto nel 1922 qui a San Donato di Piave. Proprio in occasione di questo convegno abbiamo avuto l'opportunità quest'anno di accogliere qui a San Donato di Piave il comitato scientifico Terre Evolute 2022. Un comitato scientifico che sta lavorando insieme, diversi docenti di diverse università d'Italia, che insieme stanno affrontando alcuni degli obiettivi, stanno studiando, stanno analizzando alcuni degli obiettivi dell'Agenda 2030. E in particolare in quale rapporto sono questi obiettivi con quelli che sono i punti di forza e le criticità delle terre di bonifica. Quindi l'opportunità è questa, Agenda 2030, un'opportunità e una sfida per le terre di bonifica. Questo è stato il tema del grande convegno, un importante convegno che si è tenuto in piazza, quindi ha aperto a tutti, alla cittadinanza, con un'intenzione il più possibile divulgativa, proprio per parlare tutti insieme di queste tematiche e iniziare oggi, adesso, appunto, un progetto che ci porterà al 2022, che ancora una volta dovrà essere un'altra data di partenza per andare avanti, per andare oltre, oltre anche il 2030. Quest'anno abbiamo cercato per quanto possibile, pur essendo in emergenza sanitaria, anche di lavorare molto sulla comunicazione visiva. Abbiamo addobbato tutta la piazza, proprio con le immagini degli obiettivi dell'Agenda 2030, perché stimolassero la curiosità, perché fossero un'occasione per chiedersi di che cos'è, di che cosa stiamo parlando, perché vogliamo, appunto, che la gente ci sia vicina, che la gente ci accompagni, tutti, la cittadinanza, tutte le generazioni ci accompagnino in questo processo che va, appunto, verso un futuro. Territorio molto delicato, un territorio nel quale bisogna mantenere giorno per giorno, un territorio che bisogna mantenere giorno per giorno, bisogna essere sempre presenti, sempre attenti, e tutti i lavoratori dei consorzi di bonifica ci dimostrano come questa emergenza sia parte della loro stessa passione per il lavoro che svolgono. E quindi disseminare anche nel territorio la possibilità di vedere, vedere le idrovore, vedere gli argini dei fiumi, visitare queste terre, e visitare anche le aziende che oggi prosperano all'interno di queste terre, è un'occasione importantissima, che non sempre è possibile fare, e quindi in questi giorni di festival, invece, abbiamo idrovore aperte, abbiamo aziende aperte, e la cittadinanza risponde molto bene. Abbiamo persone in bicicletta, persone che camminano, persone che prendono, appunto, le barche elettriche, e quindi mille modi per visitare questo paesaggio. E in più anche mostre artistiche. Abbiamo oggi inaugurato delle mostre bellissime al Museo del Paesaggio di Torre di Mosto, ancora una volta delle meraviglie che appunto ci parlano di paesaggio, degli occhi degli alberi che si illumineranno questa sera, che davvero fanno parlare di ambiente, di uomo, e di questo rapporto meraviglioso che dobbiamo appunto preservare. La carica di 50.000 per il passo barca di Bibione si conferma un grande successo all'attraversamento del tagliamento che da Bibione porta a Lignano, così come le visite al Faro. Dal 27 giugno scorso al 5 settembre, in 70 giorni, ben 50.965 persone hanno usato l'imbarcazione che collega la spiaggia veneta con quella friulana di Lignano, attraversando il fiume Tagliamento, contestualmente sono 77.900 i turisti che hanno invece visitato il vicino Faro e le mostre allestite all'interno. A ciò si aggiungono i 3.730 passeggeri che hanno usufruito dell'altro passo barca che da Porto Baseleghe porta alla brussa Valle Vecchia. Di Caorle, la regione Friuli Venezia Giulia, visto il successo del progetto che coinvolge anche il comune di Lignano, ha deciso di prorogare il servizio per tutto il mese di settembre. Non solo perché il servizio sarà attivo anche per i fini di settimana di ottobre. Nonostante le difficoltà dovute all'emergenza Covid, siamo riusciti a ripartire, dice il sindaco di San Michele, Bibione Pasquilino Codognotto. Quella del passo barca rappresenta una nuova formula di proposta turistica che sta riscuotendo sempre più consensi. Il collegamento di turisti per le vie d'acqua anche tra regioni è riconosciuto come un nuovo modo di trasporto ecologico. Il turismo fluviale è un fenomeno in crescita in tutta Europa perché permette ai visitatori di arrivare in zone o angoli del territorio, a volte isolate, ma di valore ambientale unico. Come amministrazione abbiamo da tempo infatti puntato sulla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e non è un caso, Bibione ha avuto riconoscimenti a tutti i livelli, per realtà che investe sulla sostenibilità. Un servizio che ha coinvolto anche Atvo, che attraverso i servizi urbano e quello gratuito Bike & Bus ha collegato l'entroterra e la località turistica fino alle piste ciclabili che portano agli approdi. L'ambiente che ci circonda è una risorsa vera e propria che abbiamo a disposizione e che, unito agli oltre 50 chilometri di piste ciclabili, conferma la vocazione di Bibione Spiaggia, conclude Codognotto, che va oltre l'Ombrellone e lo sdraio, offrendo una serie di servizi diversi che incrementano lo slow tourism sempre più ambito dalle famiglie. Non è un caso se a Bibione in certi giorni circolano circa 15.000 biciclette. Il passo barca è un successo che si è consolidato, l'ha spiegato l'assessore alla viabilità di Lignano, Marina Bidin. Abbiamo registrato il gradimento sia di turisti italiani che stranieri. Il cicloturismo e la riscoperta dei nostri meravigliosi territori sono molto sentiti dalle diverse fasce d'età ed è proprio per questo motivo, oltre ai numeri straordinari registrati, che abbiamo deciso di prolungare il servizio. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live, li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi. Alla prossima.